con la difesa soprattutto in ambito sportivo abbiamo sempre ottenuto dei buoni risultati però se si può fare un salto di categorie se si vuole ottenere qualcosa in più bisogna attaccare attaccate ragazzi perché la difesa la sapete fare l'avete fatta sin ad ora e quindi a tornare indietro non vi costa non vi costerà assolutamente nulla attaccate alla prossima ciao